Gamma App, Radio Zigbee, collegamento trasmettitore-ricevitore. Caso di un modulo già in rete. 1. Cablare il modulo. 2. Dare alimentazione. All'accensione il LED del modulo è spento, ciò significa che il modulo dispone già di un identificatore di rete Zigbee. 3. Aprire la rete Zigbee con una pressione sul tasto Connect del modulo. Di conseguenza, il LED del ricevitore lampeggerà velocemente per indicare che la rete Zigbee è ora aperta, pronta per ricevere connessioni. 4. Associare il trasmettitore al ricevitore premendo 5 volte sul canale, tasto, da associare. Successivamente, il LED del trasmettitore lampeggerà per indicare la ricerca di una rete aperta. Quindi, il LED del trasmettitore e del ricevitore lampeggia una volta per confermare l'accoppiamento. Ora, è possibile pilotare il modulo ricevitore attraverso il tasto del trasmettitore. È inoltre possibile associare altri canali, o tasti, ad altri ricevitori se appartenenti alla stessa rete. Grazie! 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 Grazie!